Che devasto era quello Ciao a tutti ragazzi Ben ritornati dall'antra link e bentornati su Yo-Kai Watch Jam Abbiamo ben tre missioni Da svolgere oggi quindi direi di non perdere Tempo di andare subito a vedere quali sono Sono ovviamente le tre missioni chiave Che il gioco ci impone Di fare dunque 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 Non è questa sono queste tre qui Le prime tre meglio farle in fila Sì 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 Ma penso che oggi riusciamo a farle tutte e tre Perché no? Voglio dire quanto saranno lunghe Attenzione il primo punto l'interesse È proprio quello dove ci sono Zazzle e Den Ma a meno che non compaiano Proprio quando tu selezioni la missione Comunque sia Andiamo Ebbene allora parliamo con Zazzle e diamo inizio alla missione Eccola qui Bella tostera tra l'altro Mamma mia Se questi sono i livelli Del secondo DLC Quando arriviamo all'ultimo Allora che cosa ci tocca affrontare? Wow Gli orologi Quasi al livello 400 tra l'altro Ok però non è che fanno proprio tanto male Sì però mi avete fatto sprecare attacco Ma dai Non so se il gioco Pensa che noi dovremmo essere a un livello più alto Del quale siamo ora Certo il livello in Yo-Kai Watch è un po' Relativo come in Inazuma Eleven Eh però Però non è che fa tanto piacere avere degli avversari molto forti Baten Mama Cirasu No Baten Mama Ciras Che cosa sei tu? Cosa dovresti rappresentare di grazia? Toll Cane cattivo A nanna A cuccia ho detto Cane cattivo No Alla violenza sugli animali Knockback abbiamo con questo tizio O tizia Perché Mama Non so pensare Insomma voglio dire Oh sì Fatti vedere almeno Dai su Devo aspettare che si ricarica gli attacchi Dai buona che arrivo O buono Qualunque cosa tu sia Perché oggi Se sbaglio a dire Il gender Se assumi il gender di una persona Uh apriti cielo Oggi vi voglio parlare della camomilla E la dava appunto Per i problemi nervosi Eh sì Dai cheerleader Oh yeah Ma perché sempre a me punti? Siamo in quattro Siamo no? E vabbè Allora senti Tu sei tarata Direi di sferrarle un attacco finale E ci siamo Un po' di supporto però ragazzi Per farla fuori Dai A posta Andata E vabbè Quando proprio gli rimane quello sputino di vita Che tu sei bello carico Puoi stare tranquillo che ce la fai A finirlo il boss Per riuscire però a livellare ragazzi In questo gioco bisogna fare Le stesse missioni più e più volte Quindi grindare Earthwalker Noah E' l'evoluzione di Earthwalker Quindi ora ragazzi Piccolo spoiler Questa non è neanche la sua forma finale Ce n'è un'altra ancora Però è davvero bella Sembra davvero un Un astronauta ora Intanto io cerco di fare amicizia con quanti più personaggi possibili Sono 260 in totale Come ho detto anche in quel famoso video su come sbloccare La missione della piramide Beh dovete fare amicizia con tutti E aggiustarli nei club Poi lì vedete le statistiche come salgono e scendono Poi fate voi Dobbiamo ovviamente affrontare tutti quanti i Y Circle Quelli che abbiamo già affrontato Come ad esempio il primo che era questo Il secondo che si trova vicino al laghetto Mentre il terzo Y Circle E' la piramide ragazzi Già Tra l'altro per diventare amici di quanti più personaggi possibili Dovete fare le missioni E poi controllare l'area di gioco Perché ogni volta che è finita una missione Una certa area di gioco si resetta E vi da la possibilità di trovare altri personaggi Da far diventare amici Che magari prima non c'erano Quindi Fatelo Fate le missioni Ah ah Eccoli qua Secondo dove si entra Qua bene Vai pronti Ragazzi per questa missione ci serve Mataro Quindi Mettiamo Mataro in squadra Ho tolto la vipera Perché beh Era l'unico che davvero mi interessava meno avere in squadra E' molto molto più forte di Mataro Però Perfetto Oh yeah Siamo pronti? Che devasto era quello Mamma mia quanto è più forte Ma che cos'è? Mio Dio raga E' un altro livello proprio Ok Non so Mi sono un attimo confuso La casa The home Che spettacolo ragazzi Che spettacolo Che spettacolo Che fa Prosti? Sì però I danni I danni E i danni Ma la casa come il film Ah Ok Allora va bene Ok ok Ecco perché dovrebbe far paura In effetti Ok Sì vabbè Che non è che il film Il film Particolare Abbiamo visto uno spezzone del film La casa 3 A scuola E stavamo ridendo come dei matti I miei compagni Perché era talmente stupido Protagonista credo che Stesse cercando di ammazzare una donna Allora la donna Mi prende la gamba E lui inizia ad ucciderla Noi stavamo ridendo Come se fosse la cosa più divertente Al mondo Lo so Siamo strani I film di paura in genere Dovrebbero fare paura Ma quello faceva ridere E se un film di paura Fa ridere Mi sa che non hai raggiunto Il tuo scopo come direttore Sì Intendevo il regista Ma Cavoli Ma ci picchi se mi piace Questo nuovo Orrio Cioè questa nuova trasformazione Perché non è proprio Un orrio Eeeh Era più grande anche l'attacco Cioè intendo graficamente Eccolo che arriva Bomba Ah È volato via Ora è fatta però Yes Woo Oh Prendi un po' la medaglia della casa Che magari ci viene ad aiutare Il lotto è forte Però mi sembra Comune Non è Non ha un colore particolare Va bene Va bene Tra l'altro Stupido io Che ho lasciato Mataro Con Shining Boy E non con Tidas Vediamo un po' il nuovo Mataro Rest Tidane Bene Rest Tidane Nel caso mi dovesse servire ancora Mataro Adesso gli setto la medaglia Di Last Tidane Di Last Tidane Perché se no Non ne usciamo vivi Da nessuna lotta A questo punto Ho lasciato Mataro in squadra Con il nuovo Last Tidane Vediamo se magari Si rivela utile Chi lo sa Comunque andiamo alla piramide Che è il nostro prossimo punto di interesse Eccoci qui Salve Chi mi serve stavolta per entrare Ranto Quindi ce l'abbiamo Siamo pronti Oh ci danno anche una mega sfera per il livello Che andrò ad usare subito una volta finita la missione Ah sono un po' vicini quelli E non mi piacciono quando sono troppo vicini Pronti ragazzi Andiamo nella mischia Ora prima di entrare ovviamente Aspettiamo di ricaricarci gli attacchi Oh mica siamo fessi noi Siamo stupidi Non scemi Cioè io lo sono Non vo' io È ovvio Wow Ah quindi proprio quando apri la porta Ora ora E infatti ha anche i punti No aspetta aspetta Troppi danni li ho fatto Sta prendendo troppi danni Non è uno yokai difficile questo Non è il vero boss Oh va Il libro che ci serve per la missione della piramide Oh ragazzi che succede Ah ok Ah eccolo il coso Ok King Do King Do Dojiras Dojiras Ah ok Sì 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 certo No aspetta l'attacco più forte non gli ha fatto nulla Non l'ha fermato Ok Però anche tu Noah Prendi l'avversario che ti sta davanti Per l'amor del cielo Noah Noè Oh però Sono Eh ovviamente puntano tutti quanti A me puntano Levati 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 Ah sono Cortoraggio questi Questo è forte Questo è forte raga Ora capisco perché Ora capisco Sì però quanti danni mi ha fatto con l'attacco Che manco mi ha preso Eh vabbè ma non si fa danno questo Oh Eh no 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 Ranto 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 Grande ranto Ranto ti voglio bene Ma dai ma come Ma dai ma sono rimasto da solo Ovviamente l'ho persa Certo Certo colpirlo mi aumenta la possibilità di trasformarmi ma Aiuto ecco ragazzi aiuto Ma quanti danni mi ha fatto Che cos'è Ragazzi però voi che potete mangiare Mangiate no Mangia tu mangia bravo Ok L'ho mangiato ranto Mangia Ok ok Io io dove sono io io Ok Salvati salvati Che vuoi fare lì in mezzo alla mischia Che c'è poca salute C'hai Devo aspettare di trasformarti almeno Ok 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 posso evitare l'attacco Posso Giusto Ok Bene Così mi ricarica anche la salute trasformandomi Ok non si fa molti danni eh Però Però quando lo colpiamo Un po' di knockback lo riceve Oh coso Eccolo qua Inizio a sentirla Laccetta Eh cerqua Però devo anche non farmi prendere Sennò è tutto inutile E infatti non mi ha preso Haha Aspetto solo che si ricarica l'ultimo attacco E poi è fatta Oh Ora 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 Eh cavoli E dai ragazzi E andiamo Uh quanta robina Ah anche il libro speciale di quella fantastica missione profumata Che perché i level 5 Eh eh Quando inventa certe missioni sono Profumatissime Livello 291 Non male Non male Si può fare Uh devo usarla assolutamente per livellare Quella darà Un livello Secondo me è tipo caramella rara Che da un livello intero Però bisogna provarla prima Ah Oh Ora ci fanno Sentire tutto quanto l'amore Ovviamente È preoccupato di Mazera appunto Riuscirò a sconfiggerlo con le mie sole forze Dobbiamo proteggere Tutti quanti Ha fatto capire Che anche lei Non è che stava dalla parte di Mazera Perché lo voleva Ma perché doveva Altrimenti Uh Bella Elze no Chikara Ma tiene Cioè È una katana però Il potere di Elze Kori no Chikara Quindi il potere di Elze Del potere di Kori Diciamo che ha il potere di Elze Mechia Insomma Sta spada Ecco Le dice anche che Il mio nome vero Non è Elze Mechia Ma Elze La regina del pianeta Kori Elze Eccolo qua Ah Zodiaraya Ah Ma quindi Zodiac Eh perché sì E' Zodiaraya Giusto Ecco chi è Mamma mia Che figata Bello Katana il carattere Non si scrive Anche in quella maniera Come Chikara Mi pare Non vorrei sbagliarmi E insomma Abbiamo risolto I tre circoli Yokai O meglio I tre circoli Uai Dunque Queste Diciamo che erano Tre prove Per farci Aumentare ancora di più La potenza L'attacco E ce l'abbiamo fatta Abbiamo potenziato I nostri tre Yokai principali I nostri tre Onryo I nostri tre Guerrieri Oh Masero Te me Ci dice che dovremmo aspettare La nostra morte In silenzio Beh Io Io sono del parere Che quando Un nemico Ti dice Che ne so Tipo dei dialoghi Strani Tipo Meglio che ti dai per vinto Lasciati morire Unisciti a me Oppure Quando capiscono Di non essere abbastanza forti E questo è il caso Masero si è accorto Che siamo diventati Troppo potenti Per lui Quindi ora Cosa ha intenzione Di fare Dovremmo semplicemente Aspettare la morte Invece no Noi Ci ergeremo Cioè meglio Ci siamo già Eretti a paladini Della giustizia Quindi continuiamo così Attenzione però Naio dice che La Kaya DX Potrebbe funzionare Ok In poche parole La Kaya DX Non è stato distrutto Quindi è collocato All'interno Dell'astronave di Mazera E se È collocato All'interno Dell'astronave Ne possiamo Teletrasportarci lì Perché Non è semplice Come materializzarsi All'improvviso Nel mondo degli umani Tu Nel mondo degli umani Ci vai Poi rendi Possibile la tua forma Da yokai Ok Quindi la prossima missione Sarebbe con loro Allora Aspetta un attimo Praticamente dobbiamo salire Di un livello intero Quindi vediamo ora Quanto fa Quella sfera Che abbiamo preso Eccola qua Dice solo che È piena di Esperienza concentrata Quindi Due livelli Boia Ma Se questa fosse Farmabile Ragazzi Se uno si perde Un paio d'ore Per battere il mostro Ci vogliono 10-15 minuti In media Senza perdere Se uno si prende Una giornata intera Farma queste Insomma Insomma Mica male Va bene ragazzi L'ognimodo Il video termina qui È stato Davvero stupendo Io vi ringrazio Per averlo seguito Shoutout Dalla youtube Stargame Che è al Rango star Dei miei abbonati Se ancora Non siete iscritti Al canale Magari Iscrivetevi Perché noi Noi Ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Eeeh 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 Eeeh